Ci sono giornalisti, giornalisti e giornalisti impiegati, c'è un famoso film che dice questo, giornalisti, giornalisti e giornalisti impiegati e mi sembra che sto vedendo solo giornalisti impiegati. Perché cos'è che non l'ha convinto? Ho chiuso così, basta. Lei l'ha fatto il vaccino? Ho chiuso così, si può allontanare per cortesia, non ho desiderio di parlare con lei, giornalisti impiegati. Non mi pare trattato, giornalisti e giornalisti impiegati, i giornalisti fanno parte del sistema e fanno la maggio del cervello in televisione, beccate solo le botte, gira state le camera perché sennò ti lascio steso per te, gira state le camera, siamo su suolo pubblico, mi taglia la gola, cosa ha detto lei, cosa ha detto mi taglia la gola? Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!